Buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Aigolia perché qualche settimana fa Andrea il gestore Mi ha fatto una proposta Ha detto ho un video da fare Ignorantissimo Secondo voi Io dico di no a un video ignorante Questo video ignorante che tra poco scopriremo Momento 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 Qua è il Max del futuro che vi parla Allora quel video è troppo ignorante Per essere pubblicato insieme a tutto ciò Quindi sarà un video a parte dedicato Vi lascio un piccolo spoiler Guarda come la sta piegando Quindi preparatevi Perché ce ne saranno delle belle sia da ridere Sia di sfrizionate Di canne piegate fino al manico Dunque in attesa di ciò Mi raccomando ragazzi superiamo i 100 like per questo video Dunque ragazzi mi raccomando Lasciate like con i miei video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Quindi direi di non perdere altro tempo E via con il video Guarda qua il Ciano 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 Tutto pronto? Direi fuori la macchina femmina Sino mi batte Dai dai Ciao Sono già ripreso Sei pronto? Sono pronto Sono pronto Eccola qui La mia nuova canna La mia nuova combo anzi Da predatori Per il lucio Per il mare Per volendo qualche bella trotona E andremo adesso a provarla Lo bagniamo qua Lo streamer E così proviamo a vedere qualche lancio Tariamo la frizione però Buona Ha proprio bello slow sinking Come esce Come esce questa coda Come esce Esce quasi da sola Ciano Esce che è un piacere questa coda Cosa Ho fatto di chere Oh Come esce E' da' è robita non so se sono io che ho imparato lanciare in due minuti o è la combo che fa da sola guarda qua che arrivano occhio occhio alla fario no ha rifiutato all'ultimo no ha rifiutato all'ultimo è qua davanti cazzo lo segue guarda guarda è qua davanti guarda lo segue però non gli da solo questa qua mi da mi segue lo streamer è più ignorante ok parione avevo dietro adesso mi affonda presa mi è venuto ad attaccare qua davanti appena l'ho portato su via funzionano direi che funzionano si guarda il fario è venuta ho tirato su lo streamer dallo scalino è arrivata lei si 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 ma quel colore lì mi ci diavolo si si va dietro si sopra corto e oggi è cacciato sotto un assist e va in tira ci ha dato eh forse ho trovato la quadra oh 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 si 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 dopo comincia a dire che due maroni no no dai cerco di evitarlo anche perché adesso ho trovato un modo per farle mangiare di più adesso ho spostato più lontano il piombino dal lamo e vedo più mangiate in modo che scende più morbido il ah si si fa il nuovo movimento naturale noi avevamo dopo l'astri da mangiare dopo l'astri con patate con i veci e con il copino oh la guarda orco e lui vai vai non l'avete mai fatto è sempre lui dai che vi prendete dai taglio olio taglio olio comunque non trovo giusto che mi venga a fare questi questi movimenti qua l'uomo capito come mi sa mi festa sotto eh si nuovo guadino guadino guarda guarda in punta arca bella bella questa occhio all'albero vai eccola qua eccola qua vedi che arriva anche lei con le ore e là è forte sta trota per fregare così la canna con la 10 non male non male la gialla probabilmente tira molto di più la canna con la 10 quindi la canna con la 10